e ciao cari amici benvenuti in questa nuova puntata di minecraft sono boon gamer giocheremo a hello neighbor insieme a vincenzo e oggi abbiamo fatto carambio io sono neighbor salve lui è vicino da ammazzare a tumbo luna dai iniziamo un uovo aspetta un attimo che prendo nuovo si iniziamo ci scrive abbiamo fatto una porta c'è un balcone per favore devo rubare chi è andato vattene 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 v scoprire perché prima ho visto due ossigliate cosa sarebbe il mio gattino i tuoi stupidi giochetti neighbor i tuoi stupidi giochetti ehi ascolta non venivi in casa mia perché ti spacco vattene mi spetta fuori vattene al tetto te ne puoi dare la mia riga mi spazzia di un buone vattene ok vorrei che ti spacco macchina tanto che me ne frega già rotta scusate per la parolaccia ragazzi vedi che non sto venendo da te e perché io ti vedo e io non sto venendo da te signor gallina deve morire è morto si la 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 se siamo furbi ragazzi siamo furbi ragazzi non possiamo camminare no non c'è niente che cosa sono sti rumori ok 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 io devo andare in prova ma dove è oh è rientrato è entrato che c'è vicino devo vedere qualche cosa o no 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 c'è qualcosa alla cesta aspetta ok ok che cosa ha preso dammi il borsa dammi il pollo dai dai adesso non me la direi tieni mezzo corrutto vattene vattene chi ti regalo da bistecca vabbè comunque un bordo vuoi che c'è niente aspetta aspetta adesso puoi andare dove c'è la mia addio qui devo bloccare prima o poi no 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 non bloccavi ok devo bloccare la porta questa è il garage e la mia è non la mia l'euro e mi ha reggindo che sono non reggito non 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 à E' il mio lato quello E' il mio lato Vattene via Te ne vai Adesso faccio una cosa Intanto non scoprirà il mano Voglio che mi faccia un bellissimo sonnellino No, 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 non sentivi niente Adesso Sì Ero sul nabolo Sì Ok, adesso non sentivi niente Devo aggiustare qua Uno e due Ragazzi siamo tutti Quanti minuti è? Sette Ok Quanti minuti è? No! Scusa un po' parterra, alzate un anziano. Che cos'hai detto? Ok, ok, se tu vuoi. No, 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 non c'è queste cose. No, no, non c'è queste cose. No, no, no. Cos'è tu impari ad entrare in casa mia? Pollo! La finisci. Tu finisci la. Adesso vattene, ok? Ok. Non sentimi niente! Era qui davanti alla porta. Non sentimi niente, dai! Adesso non sentimi niente. Maiale! 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 Maiale, che bel maiale! brutto vicino vattene ti uccido si finalmente ucciso questo uccino di merda scusate per la parolaccia vado di sovra a fare la popola devo fare la popola non lo sapevi chi era un altro un altro lo sapevo eri tu vicino che cosa hai visto non sono stato io vattene perché sono ingrativa no 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 dai scherzo comunque ciao ciao